Bene, oggi vediamo la correzione della verifica sui bonomi e sui polinomi. Il primo esercizio chiedeva di calcolare il massimo comune divisore e minimo comune multiplo di 3 monomi. Quindi, meno 2x alla seconda è y, 16xy alla quarta e 4y z. Li copio per averli, anzi facciamo così, copio l'intero testo e lo scrivo qua in fondo. E' il massimo comune divisore, è formato dal monomio che ha come parte numerica, come coefficiente numerico, l'mcd tra 2, 16 e 4. Ora 2 è già un numero primo, 16 posso scriverlo come 2 alla quarta e 4 come 2 alla seconda. Quindi, il fattore comune con l'esponente più basso è 2. Poi qui c'è il segno meno. Come mcd posso prendere sia il segno più che il segno meno. Vanno bene entrambi. Posso prendere sia più che meno. Verrà quando useremo l'mcd, quando soppremo le frazioni algebricche o le semplificazioni, vedremo quale conviene prendere. Entrambi erano corretti. Dopodiché, ripeto, i fattori comuni, quindi le lettere che appaiono dappertutto, con l'esponente più basso. Qui quali sono le lettere che appaiono dappertutto? C'è solo il fattore x nel primo e nel secondo manomero, ma non nel terzo. Il fattore z c'è solo nel terzo, quindi l'unico che appare dovunque è la y. Quindi qui avremo 2y e nient'altro, perché il più basso è 1. Quindi in questo caso l'mcd potrebbe essere preso come più 2y o meno 2y. non indifferente, d'accordo? Le lettere comuni con l'esponente più piccolo. Poi il minimo comune multiplo, che siccome è minimo, si scrive in minuscolo. D'accordo? È formato dalle lettere comuni, i fattori comuni e i non comuni, con l'esponente più alto. Quindi qui avremo 2 alla quarta, o 16 se preferite, anche lì con il più e con il meno indifferente. Poi c'è la lettera x con l'esponente più alto è 2. Poi c'è la lettera y, l'esponente più alto è 4. E poi c'è la z. Tutte moltiplicate tra di loro. Se preferiti potevamo scrivere anche 16x la seconda, y la quarta, z. Ok? Domanda? Il secondo esercizio era dello stesso tipo del primo. Cambiamo di monomi, fatemi ricordare. E qui vale lo stesso criterio. Attenzione, però in questo caso abbiamo un monomio che ha la parte numerica che è una frazione. In questo caso, sia nell'MCD che nell'MCM, ignoro i coefficienti numerici. Ok? Come facevamo tra i... Quando lavoravamo solo con i numeri. Ok? Cerco MCD e MCM tra numeri interi. Se è un frazionario non ha senso andare a cercare l'MCD e l'MCM. Ok? Quindi ci occupiamo solo delle lettere. Massimo comune divisore, quindi fattori comuni con l'esponente più basso. I fattori comuni quali sono? Beh, c'è la lettera A che è dappertutto, in tutti e tre. E c'è la lettera X che è in tutti e tre. Quindi l'MCD sarà formato da A, la potenza più bassa, è A alla terza. E X, la potenza più bassa, è 1. Quindi l'MCD è A alla terza X. Il massimo con un divisore. Il minimo comune multiplo è formato dai fattori comuni e non comuni con l'esponente più alto. Quindi ho A elevato alla quinta. Non devo moltiplicare o sommare esponenti tra monomi diversi. Basta che prendo l'esponente più alto. Per X alla seconda e Y alla terza. Ok? E questo conclui l'esercizio. Comanda? Ok. Passiamo al terzo. Dobbiamo qui a copiare il testo. Dal terzo in poi ci tratta di sviluppare le espressioni da semplificare utilizzando o non utilizzando i proti notevoli visto che non li abbiamo ancora completati e non poteva sia usarli che non usarli. Non era un problema. Quindi qui che cosa abbiamo? C'è un primo trinomio tra parentesi moltiplicato per un monomio. Quindi qui devo moltiplicare tutti i termini della prima parentesi per il monomio contenuto nella seconda parentesi idem nel secondo termine tutti i monomi del primo per il monomio meno 3X e nell'ultima idem ho X per tutti e quattro i monomi nel secondo parentesi e poi semplifichiamo il semplificabile. D'accordo? abbiamo quindi X per meno XY fa meno X alla seconda Y poi c'è più Y per meno XY fa più per meno che fa meno XY alla seconda e poi ho meno un terzo per meno XY meno per meno fa più un terzo per uno fa un terzo XY adesso qui davanti abbiamo un segno meno conviene tenerlo e utilizzarlo dopo quindi qui scriviamo meno e mettiamo tra parentesi il risultato di questo prodotto cambieremo il segno dopo quindi abbiamo 2X per meno 3X quindi più per meno fa meno 2 per 3 fa 6 X alla seconda poi ho meno Y per meno 3X quindi meno per meno fa più 3 XY poi ho più per meno che fa meno ho più il segno qui va alla capoliga 1 per meno 3X fa meno 3X dopo ripeto cambieremo il segno e infine il prodotto tra X e l'ultima parentesi quindi dobbiamo moltiplicare per X tutti i monomi della seconda parentesi quindi viene XY alla seconda più X alla seconda Y più per meno fa meno 6X alla seconda e meno 3X ok c'è una domanda? il prossimo passaggio consiste nel togliere la parentesi quindi cambio il segno questo meno questo meno cambia segno a tutto ciò che c'è in questa parentesi quindi ogni monomio di questa parentesi viene cambiato di segno da quel meno lì perché sembra come dire meno 1 per quindi i primi li ricopio meno X alla seconda Y meno X X alla seconda più un terzo XY quindi ho più 6X alla seconda meno 3XY più 3X e poi il resto lo copio più X alla seconda Y più X scusate ho invertito i due vattene correggere dopo 3X ho XY alla seconda X alla seconda meno 6X alla seconda meno 3X ok attenzione cominciamo sempre dai monomi di grado più alto 6X alla seconda 6X alla seconda meno 6X alla seconda danno 0 che sono opposti poi ho più 3X e meno 3X anche questi si cancellano ok poi abbiamo temo di aver finito i colori tra poco pazienza meno XY alla seconda più XY alla seconda si semplificano e ancora vediamo alcuni ora possiamo fare meno X alla seconda Y più X alla seconda Y danno che questo è 0 e cosa rimane rimane un terzo XY meno 3X quindi abbiamo li riscrivo qua sotto un terzo XY meno 3X Y i due monomi sono simili quindi posso sommarli raccolgo i coefficienti quindi ho 3 viene 1 più viene 9 quindi 1 meno 9 fa meno 8 terzi XY sono domande attenzione è un errore omettere la parte letterale no no si può mettere meno 3 1 dopo ok ma questa parte è indispensabile perché qui c'è domande la difficoltà era tener conto correttamente dei segni sostanti ok eravamo al 3 passiamo al 4 se non ci sono domande io proseguo se volete fermarmi alzate la mano si tratta di un prodotto tra due parentesi qui le due parentesi sono diverse cioè sono lettere con esponenti diversi oppure numeri diversi quindi qui non posso fare cose notevole anche se quindi faccio il prodotto di ognuno dei monomi della prima parentesi questo per questo questo per questo per i monomi della seconda parentesi quindi abbiamo a alla n alla 2n per a alla n fatemelo scrivere esplicitamente poi bene meno 2 a alla n antono prendiamo l'ordine che avevamo stabilito prima più 3 a alla 2n poi meno 2 a alla n e meno 2 per più 3 che fa meno 6 attenzione qui ho stessa base il prodotto da una potenza che è a base a e insomma degli esponenti 2n più n che fa 3n quindi il risultato sarà a alla 3n più 3 volte a alla 2n meno 2 volte a alla n meno 6 questo quadrinome non amo nomi simili quindi non posso semplificare ulteriormente me lo devo tenere così tutto chiaro esercizio numero 5 eccolo qui un po' qui c'erano tre parentesi quindi dobbiamo fare un passetto in più qui quando devo moltiplicare tre parentesi devo prendere prima una coppia di parentesi e poi moltiplicare per la terza qui osservate che le prime due parentesi sono la differenza per la somma di due stessi di uguali monomi quindi prima consideriamo questo prodotto ci conviene e poi considereremo il prodotto di questo per l'ultima parentesi per fare questo devo racchiudere quello che ottengo dal prodotto della prima per la seconda parentesi tra parentesi tonda anche quella quindi ho tonda a alla seconda meno a per a alla seconda più a è un prodotto notevole del tipo a più b per a meno b quindi ho il quadrato della prima parte a alla quarta meno il quadrato della parte che cambia segno a alla seconda tutto è moltiplicato per a alla quarta più a alla seconda anche questo è un prodotto notevole perché ho alla quarta nel primo nel primo parentesi alla quarta nella seconda quindi una parte identica e alla seconda sia nella prima che la seconda parentesi ma con segni diversi quindi avrò il quadrato della prima parte quindi il quadrato di a alla quarta che fa a alla osava meno il quadrato della parte che cambia segno quindi il quadrato di a alla seconda che fa a alla quarta questi due non posso sommarli perché hanno la stessa lettera sì ma esponenti diversi rimane così quindi qui si trattava di applicare lo stesso prodotto notevole due volte se io non volevo usare i prodotti notevoli poteva fare i prodotti termini a termini venivano 4 prodotti dalla prima parentesi 8 dalla moltiplicazione per la terza e poi semplificando comunque si riduceva a questi due nessun dubbio ok esercizio numero 6 vediamo di recuperarlo quello qui qui abbiamo due parentesi con tre termini in ciascuna qui non si tratta di un prodotto notevole quindi devo fare tutti i prodotti quindi il primo monomio per tutti gli altri e così via B la terza per B B la seconda per B la terza poi B la seconda per B per B la seconda per B la seconda per 3 e infine il 2 per B per meno B la seconda e per 3 ok e poi semplificare quello che si poteva semplificare quindi B la terza per B fa B alla quarta poi B la terza per meno B la seconda fa meno B alla quinta B la terza per 3 fa B 3 B alla terza questo è quello che viene dalla parentesi rossa questi sono i termini che vengono da qua poi occupiamoci della parentesi dei prodotti in verde quindi più B la seconda per B fa B alla terza B la seconda per meno B la seconda fa meno B alla quarta che per meno fa meno B la seconda per 3 fa più 3 B alla seconda questo è quello che viene da poi indicato in verde poi abbiamo meno 2 per B meno 2 B meno 2 per meno B la seconda fa più 2 B la seconda e meno 2 per 3 fa più ma è stato di meno B per meno fa meno 6 ok adesso mettiamoli in ordine per potenze e decrescenti abbiamo meno B alla quinta poi di B alla quarta ce ne sono 2 B alla quarta e B alla quarta si cancellano poi dopo abbiamo i B alla terza di B alla terza ce ne sono anche qui 2 3 B alla terza più B alla terza fa 4 B alla terza poi abbiamo i B alla seconda e sono questi 3b la seconda più di una seconda fa 5b la seconda e infine abbiamo di che c'è solo uno meno 2b meno sei controllare se dimenticato qualcosa domande ci tratta di avere un po di pazienza siamo al 7 qui c'erano prodotti con gli esponenti con le lettere questo meritava un po di attenzione vogliamo di farlo con la verità calma allora vi abbiamo a alla n più 1 c'era a quindi qui dobbiamo anche più quali prodotti termine a termine alla n più uno per a e alla n più uno per a alla n più 1 dopo di che faremo a ea per meno male più fatemelo fare esplicitamente a alla n più uno per a devo usare semplicemente la regola della somma delle potenze certamente della somma degli esponenti quando faccio il prodotto di potenza la base resta la stessa regola e insomma gli esponenti o n più uno dalla prima potenza più uno dalla seconda più come se ci fosse uno quindi ottengo a alla n più due ok poi quando faccio a alla n più uno per a alla n più uno vale la stessa regola ottengo a alla n più uno più n più uno ancora cioè a alla 2 n più due e così via ok come più tardi quando faremo alla seconda sarà la 2 n fatemelo di fare subito così dopo chiariamo a alla seconda per a alla 2 n ottengo a alla somma degli esponenti quindi due più due n non posso sommare due e due n perché non sono simili non fa 4 n e neanche 4 perché un 2 moltiplica le n e l'altro no ok quindi da qui passiamo qua sotto perché devo ripetiamo quindi abbiamo a n più uno per a che fa a alla n più due poi a le più uno per a la n più uno fa meno a alla 2 n più 2 ok poi o a per a che fa a alla seconda e a per meno a alla n più uno fa meno a alla n più due di nuovo ok domande se certo in quel caso moltiplico gli esponenti come in questo caso qui qui ho a la n alla seconda questo è a alla 2 n fatto il prodotto tra due ed n attenzione qui si poteva anche usare un prodotto notevole perché qui c'è una parte che non cambia segno che a e una che cambia segno che ha la n più uno ok perché qui come vedete la la come si chiama la prima l'ultimo termine questi qui si semplificano sono opposti e veniva il quadrato della parte che non cambia segno alla seconda meno il quadrato della parte che cambia segno alla 2 n più due comunque andiamo avanti poi il prodotto tra alla seconda meno uno per uno più due alla 2 n otteniamo più a seconda per uno che fa alla seconda meno uno più a seconda facciamo nell'ordine solito scusate alla seconda per a alla 2 n fa più a alla 2 più 2 n quindi questo in più poi ho meno uno e meno uno per a alla 2 n meno a alla 2 n e infine a alla n alla seconda fa a alla 2 n vediamo se ci semplificano come sembra ora abbiamo a alla 2 n più 2 a alla 2 n alla 2 più 2 n questi ci semplificano qui ho a alla 2 n meno alla 2 n anche questo si semplificano e mi rimane a seconda più a seconda che se due volte alla seconda meno uno questi due che sono simili e si sommano e poi mi rimane questo sono domande tutto chiaro abbiamo l'ultimo lo sfidiamo qua sotto lo sfidiamo qua sotto non riesco a spostarlo ecco fatto meglio ok qui era lungo qui andava a rapoli ma non è un problema qui sostituiamo per prima cosa lo 025 con 25 su 100 cioè un quarto quindi questo lo riscriviamo come un quarto x meno 3y per un 4x più 3y poi questa va moltificata per un sedicesimo x alla seconda più 9y alla seconda meno lo ricopro un quarto x alla quarta meno ancora quadra 9y alla terza 1 meno 9y meno 3y alla seconda alla seconda diviso y più 3 qui possiamo usare i prodotti notevoli perché abbiamo un quarto x meno 3y per un quarto x più 3y a una somma per una differenza quindi qui viene qui devo metterlo comunque tra parentesi tonde allora un sedicesimo x il quadrato di un quarto è un sedicesimo x alla seconda meno 9y alla seconda per un sedicesimo x alla seconda più 9y alla seconda meno qui non conviene sviluppare il quadrato rimaniamo 1 su 4 alla quarta x alla quarta lo tengo come potenza per fare meno pari coli poi ho meno nella quadra ho 9y alla terza per 1 fa 9y alla terza 9 per 9 fa 81 quindi ho meno 81 alla terza per y fa y alla quarta e poi ho meno 3 alla seconda che fa 9 y alla seconda nel quadrato che fa y alla quarta diviso y e poi più 3 non so se ci sta ops ecco e poi la quadra chiudo le prime due parentesi sono un altro prodotto notevole quindi avrò un sedicesimo alla seconda per x alla quarta meno 81 y alla quarta poi ho qui il 4 1 su 4 alla quarta posso scriverlo come un sedicesimo alla seconda che semplifica il primo poi ho la parentesi quadra qui posso togliere le parentesi ok ho quindi ho meno 9 y alla terza meno e meno fa più 81 y alla quarta meno e meno fa più io ho 9 y alla quarta diviso y fa y alla terza e poi meno 3 attenzione questo 3 non moltiplica il resto è sommato al resto andremo a moltiplicarlo il resto semplifichiamo quello che si può semplificare 1 su 16 alla seconda x alla quarta meno 1 su 16 alla seconda x alla quarta vanno via poi ho meno 81 y alla quarta più 81 y alla quarta e infine meno 9 y alla terza più 9 y alla terza e rimaniamo con meno 3 ok qui attenzione vi faccio montare una cosa quando ho espressioni come questa per esempio dove eccola qua 1 su 4 alla quarta non conviene sviluppare la quarta potenza perché molto probabilmente da qualche altra parte si semplificherà anzi è meglio avere fattori che potenziano la base come base numero primo e l'esponente adeguata e poi semplificherò alla fine se poi dovrò fare il calcolo lo farò ma finché posso evitare finché sto cercando di semplificare l'espressione mi conviene usare le proprietà delle potenze ok è più facile accorgersi se ho numeri uguali o dove e come posso semplificare domande c'è qualche passaggio che ripetiamo tutto chiaro per tutti o dei precedenti come vedete quello che non avete nessun problema ok se non ci sono domande ci fermiamo tutto